Ecco signore e signori, un altro degli episodi di Sandra e Raimondo. Raimondo, lo sai che oggi sono andata a un funerale? Ma di chi? Tuo? Di chi cosa? Tuo funerale? No, sono andata al funerale del tuo vicino di casa. Oh, ma che spiace. Sono andata, sono entrata, ho visto tanta gente, tutti che piangevano. Tu che ridivi? Esatto. Ero sdraiato nella bara, tutta bella, con tutti i fiori, così, con una faccia tutta smorta, tutto bianco, tutto magro. E io l'ho guardato e gli ho detto ai familiari, a me della sua morte non mi dispiace perché era un uomo arrogante, non si faceva mai cazzi suoi. E poi era un uomo arrogante, ecco. E su, non devi dire niente, povero Cristo. Sei morto, c'è un motivo. Era palato di tumore. Ok, non devi andare niente. Oh, ma guarda un po' che è questo. Disprezza sua moglie. Spegni la luce che la corrente la pago io. Come no? Secondo te chi ha lavorato per tutta questa vita? Chi portava a casa lo stipendio? Io! Spegni il lampadario che la colletta aumenta. E' meglio che aumenta. No, ascoltate, io faccio una cosa, io me lo vado a letta perché io non ti sopporto più, eh. Buonanotte. Guarda un po' te, tocco come, no? Buonanotte. Che barba, che barba, che noia. Che barba, che barba, che noia.